. Belen Rodriguez, trucco luminoso e… maglietta bucata? . Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé, ogni foto della bella showgirl argentina viene subito presa d'assalto dai follower. Questa volta, a finire nel mirino dei fan è una foto pubblicata sul profilo Instagram della modella. . La maglietta della discordia. Nella foto, Belen è ritratta con gli occhi chiusi e una mano sulla visiera del cappello che le ricopre il capo. . Il pretesto è quello di augurare buongiorno ai suoi fan e buon inizio settimana, ma i follower non si lasciano scappare l'occasione per commentare l'immagine della showgirl. . Le donne, innanzitutto, le fanno i complimenti per il trucco, che è molto delicato e leggero ma estremamente luminoso, Belen ha un ombretto beige che le dona un effetto bagnato molto glam, così come vuole la moda del momento. . 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 Non è sempre di trovare qualcosa di sbagliato in ogni foto o video postato dalla Rodriguez. Belen alterna foto di scena a foto di vita privata, in modo da condividere con i suoi follower, ben 6 milioni, ogni istante della propria vita, non solo professionali. Ciao